Il famoso inviato di stricciare la notizia, Luca Abete, sarebbe stato strattonato e fermato dalla polizia nel pomeriggio di oggi, il 16 ottobre 2016, ad Avellino, nella regione Campania. Durante i tentativi, Luca Abete mi ha intervistato il ministro di istruzione, Stefania Giannini, la quale si trovava nel capoluogo campano, o meglio nel capoluogo, o meglio nella città campana, per un convegno di natura professionale. Fermati anche gli operatori ai quali sarebbe stato chiesto di consigliare il girato. Il viaggio e la sua truppe sarebbero stati poi in questura, dove poi sarebbero stati identificati. Abete voleva chiedere al ministro delle spiegazioni, dopo i numerosi registri utilizzati, nei quali per l'appunto il buon Luca Abete avrebbe, per così dire, evidenziato carenze di natura strutturale ad alcuni edifici scolastici della regione Campania. Dal video presente nel web si può evidenziare che il buon Luca Abete sarebbe stato duramente stratturato da qualcuno, probabilmente da qualcuno che non ha dovuto dare la possibilità, non vuole capire, di intervistare il ministro Giannini. Questo sarebbe qua, se in tale video fossero presenti delle inesatesse mei scuse di quanto Chioli parla, io non vedi se non sono due ai stati, è stato escluso di me e metto una responsabilità di equazione di natura strutturale, grazie e ancora grazie a tutti.